Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con l'onorevole Lara Comi di Forza Italia, faremo un'intervista molto informale ma chiederemo sostanzialmente del suo impegno per i giovani. Quindi la prima domanda, Lara, che ti rivolgo è questa, noi sappiamo che hai fatto tante iniziative per i giovani, soprattutto per quanto riguarda i fondi europei per combattere la disoccupazione. Crediamo che sia un'ottima opportunità che però sia ancora un po' sconosciuta. Vorrei che tu brevemente ci raccontassi concretamente che cosa sono e come soprattutto si può entrare a disposizione di questi fondi. Allora, innanzitutto abbiamo 3.000 posti di lavoro per i giovani all'interno delle istituzioni europee e sono posti attualmente disponibili, quindi bisogna mandare curriculum. Noi abbiamo sicuramente delle grandi opportunità e dei grandi persone con esperienze, anche con dei curriculum eccellenti, quindi bisogna candidarsi. Per candidarsi si può andare anche sul mio sito www.laracomi.it e sulla vostra sinistra trovate opportunità di lavoro. Invece sulla destra trovate bandi, quindi c'è diviso settore per settore come possono svilupparsi, come possono promuoversi queste idee e questi bandi. Quindi diciamo che c'è anche una sorta di flessibilità anche interattiva per accedere a questi sistemi molto digitalizzati, quindi passa tutto anche attraverso la rete. Zero burocrazia, zero carta, quindi assolutamente risparmio anche per quanto riguarda tutto il tempo che si deve dedicare alle tempistiche, di conseguenza è bene che avvenga in modo molto rapido e attraverso il web. Senti, un'ultima domanda su Saronno. Allora, noi vorremmo chiederti il tuo impegno che porterai avanti nei prossimi anni per la città di Saronno anche eventualmente, anzi speriamo tu sia rieletta e soprattutto quale sarà il tuo impegno e soprattutto per l'aspetto per i giovani, per le tue iniziative savonnese. Allora, i giovani devono avere uno spazio giusto dove ritrovarsi, dove riunirsi e dove anche svolgere le loro attività. Deve essere uno spazio legale, deve essere uno spazio che anche il comune dia a disposizione, non lo si fa attraverso delle occupazioni abusive ma lo si fa tutti insieme creando una struttura utile per riunirsi in modo assolutamente pacifico in condivisione dei valori e delle attività che voi giovani dovete portare avanti e tra questi mi inserisco anch'io. Bravissimo. Senti, un'ultimissima domanda invece riguarda Expo. Come tu pensi che Expo possa essere valorizzato per il nostro territorio proprio saronnese? Saronno è a pochi chilometri dall'area Expo, quello che è una domanda che dovresti chiedere maggiormente al sindaco Porro perché ritengo che siano le amministrazioni che debbano maggiormente informarsi ed incentivare queste attività. Lo stanno facendo tanti tanti altri comuni con i quali sto collaborando. Saronno dorme e questo è un problema molto molto serio nell'ambito economico, produttivo e anche per il nome di Saronno che dovrebbe essere di più valorizzato. Laura, noi ti ringraziamo per l'intervista e passiamo a lui che ci racconta. Grazie ragazzi e quindi io vi lascio la vostra testimonianza. Grazie. Ciao Laura. Allora, siamo qua con il responsabile della Giovani Italia della provincia di Varese, quindi la parte di Forza Italia inerente ai giovani. Che cosa si sta facendo concretamente e che cosa è cambiato rispetto al popolo delle libertà? Ma allora, come giovani di Forza Italia della provincia di Varese stiamo cercando di ricostituire una militanza a livello territoriale, ossia far sì che i giovani si sentano partecipi del centro-destra e possano così dire la loro, perché così come a livello nazionale l'elettorato di centro-destra difficilmente è meno militante dell'elettorato di centro-sinistra e noi invece vogliamo che i giovani si avvicinino alla politica, si appassionino alla buona politica, perché solo con la politica, solo con la partecipazione possiamo portare avanti le nostre idee. Certamente. Senti, un'ultimissima domanda. Che cosa avete fatto fino ad ora da quando si è insediato il nuovo coordinamento? Il nuovo coordinamento si è insediato tre mesi fa. Col fatto che il coordinamento si è recentemente insediato, di fatto fino adesso, oltre a costituire il coordinamento in senso materiale, vero e proprio, stiamo aiutando i giovani ad inserirsi all'interno dei consigli comunali, dei comuni che sono attualmente al voto della provincia di Varese, per far sì che i giovani abbiano una loro parola, una loro voce all'interno del consiglio comunale. Qui diciamo si concilia l'aspetto più partitico, nel senso di andare a prendere le preferenze sul territorio, ma anche contemporaneamente si cerca di guardare l'aspetto un po' più ludico, confermi sotto questo aspetto. Sì, in questo momento siamo più concentrati sotto l'aspetto politico-partitico, perché ci sono le amministrative, però fare politica deve essere anche divertimento, deve essere anche stare insieme, che non deve essere un divertimento dove si danneggiano le città, dove si distruggono le città, ma semplicemente la voglia di stare insieme e di costruire qualcosa di grande. Ok, ho capito. Senti, ti ringrazio tantissimo, aspettiamo di vederti presto a Savonno.